Salve, oggi affrontiamo il discorso relativo ai perossidi e ai superossidi. Prima di entrare nel merito dell'argomento ricordiamoci che cos'è un ossido, quindi un ossido è un composto formato da ossigeno il quale è legato a un metallo oppure a un non metallo e l'ossigeno presenta due elettroni sbagliati, quindi ossido, possiamo indicare in questo modo la molecola dell'ossigeno. Vediamo i perossidi. I perossidi hanno invece una particolarità cioè nel senso che due atomi di ossigeno sono legati tra di loro e ogni ossigeno mantiene un elettrone sbagliato il quale andrà a legarsi o covalentemente o attraverso un legame di natura ionico e quindi i perossidi vengono rappresentati con O2, 2-. Per quanto riguarda invece i superossidi hanno una struttura diversa cioè nel senso che due atomi di ossigeno si legano covalentemente ma rimane un elettrone spaiato su un ossigeno e questo farà assumere carica negativa a questo gruppo di ossigeni. Quindi possiamo dire che i superossidi vengono rappresentati in questo modo. Bene adesso vediamo di analizzare i composti. Il primo composto è l'acqua ossigenata H2O2 in cui l'idrogeno ha sempre stato di ossidazione più 1. In questo caso l'ossigeno presenta stato di ossidazione meno 1. Questo perché? Perché andando a costruire la molecola sappiamo che l'ossigeno è più elettronegativo dell'idrogeno per cui ogni idrogeno perderà formalmente un elettrone e ogni ossigeno assumerà carica pari a meno 1. Ora vediamo il perossido di sodio. In questo caso N2O2 anche qui la molecola si pone in questi termini in cui due atomi di sodio si legano quindi mantengono stato di ossidazione più 1 e l'ossigeno meno 1 così come abbiamo visto per quanto riguarda l'acqua ossigenata quindi sarà più 1 il sodio meno 1 l'ossigeno. Vediamo un altro perossido che è il perossido di bario. In questo caso il bario è bivalente ma la struttura molecolare prevede sempre un ponte ossigeno verrà quindi disegnata in questo modo quindi il bario sappiamo che è stato di ossidazione più 2 fisso conseguentemente ogni ossigeno avrà stato di ossidazione pari a meno 1 quindi più 2 meno 1. Vediamo adesso di analizzare il superossido quindi superossido l'abbiamo visto come diciamo la struttura qual è quindi il superossido di potassio quindi KO2 quindi sappiamo che il potassio ha stato di ossidazione sempre più 1 in questo caso non potendo perdere più elettroni logicamente l'ossigeno avrà stato di ossidazione pari a meno un mezzo quindi ogni atomo di ossigeno stato di ossidazione pari a meno un mezzo. La molecola verrà quindi rappresentata in questo modo con un legame covalente l'elettrone sbagliato quindi carica negativa e il potassio carica positiva quindi si andrà a instaurare una sorta quindi di attrazione di natura ionica. Spero che questa lezione vi sia piaciuta iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like. Ciao! Ciao! Grazie.